Ma chissà che cosa c'è dentro Dov'è il bimbo? Cominare dei guari? Max Payne? Max Payne? A me sta combinando qualcosa Dov'è? Cucina? Ma combini? Sì, stai Sì? Sì, stai Che casino E' da sistemare di nuovo il capito Vale totale 60 La cassa morte Sapevo che era Non c'è roba di valore 100 dollari di scarte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.